Ciao ti grottini, ciao ti grottini Ciao Allora io e Vale, oggi Vieni vien qua, vieni vien qua La la lero, la 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 Speriamo Allora oggi Un anno dopo la post-it challenge Più o meno un anno dopo Non lo so, la rifacciamo Ma che la post-it challenge? Questo però sarà un video un po' diverso Rispetto a quello dell'anno scorso Si, perchè Perchè Non lo sa manco lei Perchè, allora, per ogni emoji Ci sta un fatto che Ci accomuna, nel senso che se Tipo, che ne so, abbiamo visto una serie Tipo insieme E mettiamo il fantasmino vuol dire che ne so Vabbè, avete capito Lo scopriremo solo vivendo One, prima Secondo te cos'è? Sono due spade, questa ok Ok, però vabbè Cosa c'entra tutto ciò con Qualcosa O nostro o solo mio Qualcosa che un po' ci accomuna? Pit, no Non c'entra Pit Allora, secondo me The Walking Dead Brava Perchè le spade? Perchè ci sta Una tizia che non mi ricordo il nome Perchè ci sta una tizia con le scape E perchè ci accomuna queste emoji? Perchè ci accomuna le due? Non lo so L'hai detto di The Walking Dead Ah, peggio Che hai rivelato Va bene, comunque brava Prima fatta E due Allora questo, ti dico subito Ti dà una bocca con il rossetto E' accumulata a due fatti Due Allora secondo me Vai Secondo me Uno è un fatto che è successo da poco Uno è un ricordo C'entra con un rossetto tipo Eh Beh Sì mamma, arrivo subito Eccoci tornate Abbiamo mangiato Ora ci dici che vuol dire Allora fammi pensare Io prima Stavo pensando mentre mangiavo perchè Sì Perchè Ciba aiuta A pensare No, io non mi ricordo più Cazzo No, no Dimmi se te rendi Almeno una delle due La puoi dire Non mi ricordo Una è molto recente Ah no, forse perchè tipo Ti posso dare un indizio? Però l'hai sbagliata calcola Riguarda il romix Prima di andare a romix Dai Che hai fatto con il rossetto? Ti ho sporcato il braccio Ecco Racconta questo fatto simpatississimo Allora, perchè io mi stavo mettendo il rossetto Stavo mettendo qui sotto E non l'ho fatto apposta perchè sono così stronza E tipo lei stava Perchè l'annaccio al vizio di portare la borsa così Così E io per sbaglio Gli ho leggermente sporcato la manica Leggermente? Andate a rivedere il vlog e ditemi se ha leggermente E lei Coprendo la... Cioè Voleva coprire la macchia con la porta qui E c'aveva anche l'incontro Il mio primo incontro Grazie L'altro è legato a quando ci stavamo praticamente conoscendo ed eravamo molto piccole Tu stavi sotto casa molto spesso con i trucchi a truccare tua sorella E erano tutti rossetti Ti ricordi? E noi ci siamo conosciute diciamo in quel periodo là Che io vedevo lei Era estate Vedevo lei sotto con la sorella che si truccavano e si mettevano i rossetti a vicenda E tu li mettevi a me E qui noi ci siamo conosciute Ci conoscevamo già Però abbiamo iniziato a legare tanto Quei momenti là Capito? Che c'entrano se Vabbè ma che ci pensa Che schifo che fai Tadam! Vale ha detto che è una pippa questo gioco E riguarda la nostra amicizia Grazie Vale Che cosa significa questa simpatica palla? Allora Secondo me Dicci Sicuramente ho sbagliato perchè Tu però va Oh adesso No Però non ci avevo pensato quello No Riguarda un periodo dove ero fissata Ti sono prevenizi Con una certa cosa E questa palla Faceva parte di un gioco Che riguardava questa certa cosa No eh Eri fissa? Ero fissata ma tanto Perchè tu sai quando ho le fisse ho le fisse Eh si guarda un po' Lei mi conosce No Con una cosa Tanto E questa palla Che non era proprio da calcio Che ho trovato questa Questa palla Ci aiutava a giocare a una cosa Che riguardava questa cosa Che era la mia fissa Saria non ti ricordi? Fa più pensare Pensa Secondo me E' tipo una cosa che riguardava Cosa? Vai prova No 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 Pallavolo Nooo Mi guardava una passione C'ho proprio della pensione Del pallavolo Mi ha sempre fatto schifo Vabbè Bah Posso? Fatto come lo sai? Dai Fammi pensare all'aspetto Un po' schifo Ah faccio la migliore Fica Io me ne vado Ma tu mi scegli le cose Che di tre anni fa Pur di più Non riesco a te Vado a farmi la figa ma no Allora Quando giocavamo a Harry Potter Con la palla Tirarci le magie Ah ma dai Racconta questo fatto Vediamo se te lo ricordi Dai racconta Ah si Allora perché Elena Quando era fissata con Harry Potter Cosa sa che anche ora Lo è Di meno E c'è il trenino Thomas Bosta Ciao In pratica Stavamo sotto casa Sotto casa Io avevo la palla La prendevo E io Lei Anche mia sorella Ma vabbè Sti cazzi di mia sorella Sinceramente Giocavamo Ti amo vero A tirarci le magie Giocavamo a tirarci le magie Tipo Ah vada che d'avrà Però con la palla Capito? E le persone dopo Tipo a lei tirava un crucio Doveva far finta di soffrire Il disagio Il disagio di infanzia Questa è la mia Allora Che figa Allora Secondo me Questa palla di neve Questo fiocco di neve Questa palla di neve Rivalda Il febbraio Del 2011 Più o meno Quando è iniziato a nevicare qua E noi stavamo qua sotto Abbiamo fatto tantissime cose A parte provavamo i balletti Come delle dannate Perché quando Elena Si metteva in mente Di fare dei balletti Bisognava provare Cazzo Vabbè Poi Poi In quel periodo là Abbiamo fatto una litigata colossale Con un nostro amico E mi rimarrà sempre nel cuore Oddio Te lo ricordi? Te lo ricordo più così io di lei Che ha scelto queste emoji E poi cercavamo di fare i pupazzi di neve E abbiamo fatto un sacco di video In quel periodo là Facevamo avanti e indietro E gli angeli Eravamo veramente felici E questo Sì Italico Italico Ittallico Italico Italico ・ Cioè Valentina non è che puoi scegliere cose di tanto tempo fa Per non farmi indovinare Cose di 5 ore fa Bene, brava Ottima tattica Allora, questo è legato a un fatto di tanto tempo fa Stavamo facendo una recita La recita di Natale A casa mia No, non è questa Vabbè, posso raccontarla A un certo punto, alla fine della recita Valentina Io ci tenevo tanto a questa recita Quindi ci tenevo che venisse bene Dopo gli inchini dovevamo uscire E invece Valentina ha iniziato a dire alla madre Mamma io non ci vado a nuoto E ha continuato così Proprio non ci vado Perché io facevo nuoto Perché? Perché facevo nuoto Però mi stufavo di andarci Perché volevo proprio smettere E non riguarda questo? No E quindi niente Dicevo sempre a mia madre che non ci andavo Perché poi mi mettevo il fatto che era tardi Anche se non lo era Però non volevo andarci Sì, però non è questo Tranquilla Ok Dammi dei di Allora È una cosa che riguarda l'estate Di... Non mi ricordo quando Ma comunque L'estate Riguarda la Dispoli Sì Che andavamo in piscina No Al mare Sì Facciamo le gare di nuoto Insieme a chi? Insieme a due nostri amici Ok, ho capito Simone Emanuele Che sono dei nostri amici del mare Già da cinque anni Vabbè Ci stiamo distaccando Vabbè Non so qua se è Però comunque Sono i nostri amici del mare Già da cinque anni circa E quando ci conoscevamo Veramente da poco Noi con le onde Anche dipendeva Con le onde? Sì Facevamo Ci siamo conosciuti Quattro anni fa Cinque Quindi quando c'erano le olympiadi E quindi facevamo tipo le gare Assurde O di apnea O di cose O delle onde Oppure di velocità Su di capelli E quindi diciamo Facciamo un po' così Caruzzo Un po' così E niente Questo era il video Noi ci andiamo a prendere Un bellissimo gelato Perché vogliamo il gelato E niente Spero vi sia piaciuto Qua Elena e Valentina è tutto Anche se non mi stupri magari Un bacio grande Saluta Ciao belli